Francesco la settimana scorsa ha partecipato a un concorso nazionale, giusto? Dove sei stato? A Potenza. A Potenza, lui partecipa anche a concorsi nazionali. E quanti voti hai preso? 99 punti su 100, primo assoluto. Avete capito? 99 su 100, primo assoluto. A Potenza A Potenza A Potenza 99 su 100, bravo Francesco, vedi qua, fatti fare un bell'applauso. Francesco Scarselli, 99 punti su 100 al concorso nazionale a Potenza. Continua così Francesco.